Il salvadanaio elettronico Tentai è un regalo ideale per bambini dai 5 ai 12 anni, che unisce divertimento e apprendimento sul risparmio. Con una tastiera password, offre sicurezza e un'esperienza interattiva, simulando un vero ATM. Può contenere sia monete che banconote, rendendo il risparmio semplice e coinvolgente. Il design rosso brillante cattura l'attenzione, ed è perfetto per insegnare l'importanza della gestione del denaro in modo ludico e sicuro.